La situazione è delicata ma non siamo ancora alla piena emergenza di fiuti. A San Ferdinando di Puglia però da diversi giorni il servizio di raccolta viene svolto a Singhiozzo da Sia. Lo denuncia il sindaco Michele Lamacchia che fotografa l'attuale situazione. Ci sono quartieri dove non è stata raccolta la plastica, in altri sono stati lasciati per strada i sacchetti di indifferenziata e quelli dell'umido. Una situazione che come detto comincia ad essere insostenibile anche sotto il profilo dell'igiene ambientale. Le scuole cominciano a risentire di questo servizio a Singhiozzo e le attività commerciali segnalano da giorni la mancata raccolta dei rifiuti. A ciò si aggiunga, come racconta ancora il sindaco, che da una decina di giorni non viene effettuato il servizio di spazzamento delle strade. Insomma per Lamacchia ci sarebbero tutte le condizioni per avviare le procedure che portino alla risoluzione in danno del contratto con Sia, società di igiene ambientale con la quale è in atto una sorta di braccio di ferro dalla scorsa estate. Il punto di inizio di questa storia è legato al mancato adeguamento dei costi del servizio chiesti da Sia ma non accettati da parte del comune di San Ferdinando di Puglia. Vicenda che deve contemplare anche qualche passaggio giudiziario con il Tarpuglia che qualche settimana fa ha sospeso un paio di ordinanze del sindaco alle quali Lamacchia nel periodo estivo era dovuto ricorrere per far pulire il paese che rischiava il collasso. La causa di merito, anticipa il primo cittadino, verrà discussa il prossimo 6 dicembre mentre Sia avrebbe ritirato il ricorso presentato in sede civilistica per richiedere l'adeguamento della tariffa per il servizio di raccolta rifiuti. La situazione resta fluida con Lamacchia che conferma la volontà di avviare la procedura per la rescissione in danno.